Se veramente Dio esisti, vabbè, o se ce l'è la parola, ce l'è la parola, ce l'ha tornato stammane dall'Ucraina, che cosa hai trovato? Cosa abbiamo trovato in Ucraina? Io ho trovato dolore e speranza, il dolore, le ferite, abbiamo incontrati i soldati all'ospedale di Leopoli, poi siamo stati nelle scuole, dolore perché è un paese martire e speranza perché ho visto il sorriso di tanti bambini, è una cosa, ti dice, non si può distruggere un paese, perché c'è quella forza, c'è quella speranza. Sei in libreria con questo processo a Francesco, peraltro padre Enzo, come sappiamo, è popolarissimo sui social, fa un grandissimo lavoro di divulgazione, amatissimo da tutti, ed è molto interessante questo mettere, diciamo, a fiancare Papa Francesco e San Francesco, che sono appunto soggetti che vengono giudicati, loro che non hanno mai giudicato. Prima cosa, come sta Papa Francesco? Che notizie abbiamo? Penso che l'ultimo comunicato della sala stampa è straordinario, ci ha detto che il Papa, infatti, hanno detto che starà in piazza la Domenica delle Palme, Passione del Signore, insomma, sono notizie belle, mandiamogli un abbraccio a Papa Francesco, Papa Francesco l'Italia ti vuole bene. Certo, chi crede, dice una preghiera, chi non crede, gli riconosce una grande statura morale, intellettuale. Ha detto bene, una grande statura. Per questo è importante. Senti, e perché, e che cosa hai scoperto affiancando il padrono d'Italia e il Papa? Ma intanto sono due figure straordinarie, e c'è questa parola che fa un po' da titolo al libro, processo. Noi pensiamo subito a chi è sotto attacco, a chi viene messo sul banco degli imputati, e invece ci accorgiamo poi che questi processi mettono in luce non solo la bellezza e la testimonianza straordinaria di chi viene accusato, ma anche che sono persone che hanno aperto e stanno aparendo processi. Pensiamo a Papa Francesco oggi, quanti processi nella Chiesa, nella società. Oggi gli ultimi non sono più le persone da fare dell'elemosina, sono delle persone con le quali tu vivi un'esperienza di vita. Se tu ascolti l'immigrato, se tu lo guardi negli occhi, il profugo. Io adesso, stando in Ucraina, sentendo il dolore e la speranza delle persone, che io vorrei che in questo momento, Serena, non passi io, ma passino queste storie, le storie di questa gente, che è la gente che sta ai margini e che ci insegna tantissimo, perché loro sono la più grande, la più bella predica all'uomo, all'uomo contemporaneo. Il Cardinal Matteo Zuppi scrive appunto, Presidente della CEI, il paradosso è che Francesco come Gesù non giudica mai l'altro, ma è continuamente sotto giudizio. Lo stesso vale per il Papa, che una volta disse, sembriamo tutti giudici mancati, ma Dio perdona chi non giudica i fratelli. Come si fa ad avere questa, diciamo, apertura di libertà? È bellissimo, è libertà. Hai detto una cosa straordinaria, il non giudicare è libertà. Noi quando giudichiamo non siamo liberi. Vedi, tu hai citato i social, io a questa pagina ogni sera incontro migliaia e migliaia di persone. Se io a queste persone che mi seguono dico, ditemi la vostra esperienza di non giudizio, arriva un mare di gente che sopporta pazientemente, di gente che subisce sopruso, che a volte viene maltrattata e sta lì con una forza d'animo e va avanti. Ma questo che cosa ci dice? Ci dice una cosa, Sere, che a volte il male fa rumore e il bene invece è silenzioso, ma nel nostro paese ce n'è tantissimo. Adesso tu hai citato i viaggi in Ucraina. Stavamo in Ucraina, l'ultimo giorno l'abbiamo trascorso a Kiev, siamo stati nei centri della Sant'Egidio, con me la cooperativa Auxilium, la federazione gioco calcio e mentre siamo usciti la sera vedo un ragazzo, ci sentiva parlare, pure io sono italiano e gli faccio, e tu che ci fai qui? Come ti chiami? Mi chiamo Ludovico, vengo da Milano, sono venuto a dare una mano qui alla gente. Cioè questo è il nostro paese. E dobbiamo essere sempre molto fieri di quello che siamo, grazie anche ai valori che anche la Chiesa ha portato in questo paese, sono valori laici, sono valori religiosi, c'è una cultura anche per chi non crede che comunque ci ha permeato, che è appunto l'inclusione e la solidarietà ed è per questo che vi invito tutti a leggere e a rileggere i libri di padre Enzo perché ci danno sempre una marcia in più per affrontare le piccole e grandi sfide del quotidiano. Processo a Francesco, il messaggio del santo nella rivoluzione di Papa Bergoglio. Tutti possiamo esserne protagonisti. A te ogni bene Serena, permettimi di dare, perché ci tengo moltissimo a questo, io ogni sera parlo alle persone e commento semplicemente, leggo la pagina del Vangelo che è la buona notizia e loro mi danno il loro feedback. Io ogni sera alle 20.50 sulla mia pagina Facebook incontro queste persone e questa è l'Italia bella, l'Italia buona, è l'Italia che vuole sempre parlare. Vuole bene al Papa, vuole bene alla Chiesa. Grazie. A te Serena. Grazie davvero padre Enzo, leggete e moltiplicatevi come dico io, perdonatemi la parafrasi.